Questo è un video tutorial che riguarda le utilizzazioni provinciali su sostegno per un docente che è titolare su materia e di secondo grado e vuole andare su sostegno. Questo titolare ha 15 anni di ruolo, 5 di cui passati in utilizzazione su sostegno. Andiamo a compilare la domanda, essendo un titolare di scuola di secondo grado, scegliamo la mobilità organica di fatto per la scuola di secondo grado, andiamo alla compilazione, poi facciamo accedi e entriamo per inserire la domanda di utilizzazione provinciale e andiamo a compila. La prima cosa che dobbiamo fare sulla sezione C è mettere il punteggio aspettante per l'utilizzazione. Essendo un docente di 15 anni di ruolo, con 5 anni di ruolo spesi con utilizzazione sul sostegno, avrà 90 punti più 30 punti e essendo questo docente con 5 anni di continuità altri 10 punti, 130 punti di servizio e avendo il docente anche 5 anni di pre ruolo avrà 14 punti aggiuntivi e avendo un ricongiungimento al coniugi avrà 6 punti per esigenza di famiglia, 3 punti gli diamo per il figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni più i titoli culturali che dove raccimola altri 15 punti in totale avrà 168 punti. Teniamo conto che il punteggio si calibra sugli allegati della mobilità d'ufficio, dunque sulle tabelle della mobilità d'ufficio. Per esempio il pre ruolo varrà per i primi 4 anni 3 punti e per i successivi 2 punti ogni anno. Una volta stabilito il punteggio, essendo un'utilizzazione sul sostegno, nel punto 2, nel punto 3, nel punto 4, 5 e 6 della sezione C non va ammesso, va ammesso no. La sezione D riguarda le precedenze, vi potete vedere il video precedente che ho fatto sulle precedenze e lo stessa cosa. Andiamo nella sezione A, utilizzazioni con precedenza. Il docente può confermare l'utilizzazione avuto l'anno scolastico precedente, dunque sceglie la scuola e il plesso in cui è stato utilizzato sul sostegno l'anno precedente. Per esempio nel mio caso prendiamo il liceo delle scienze umane Gulli di Reggio Calabria. Supposto che io abbia fatto utilizzazione l'anno precedente, abbia svolto servizio lì, avrò una precedenza per essere confermato se vi è il posto per continuare a fare sostegno in quell'istituto. Anche il tipo di posto dovrò confermare, non la classe di concorso, ma proprio la tipologia di posto. Nel caso specifico andiamo a vedere il codice EH che sarebbe per quanto riguarda il tipo di posto riferito allo stato psicofisico, cioè sostegno a minorati di psicofisici. Si conferma anche il tipo di posto, dunque si conferma la scuola del precedente anno e il tipo di posto che si è fatto e si avrà una precedenza in quel caso. Dopodiché nella sezione H si mettono il titolo di sostegno posseduto, dunque il minorati della vista, il minorati dell'udito e i minorati psicofisici, in modo da avere la copertura totale delle carte disponibili. Poi nella sezione I i tipi di posto, in questo caso posto di sostegno perché si chiede il passaggio sul sostegno, sulla tipologia di sostegno e se si vuole anche mettere la preferenza per i corsi serali si può mettere sì, oppure anche per cattedre articolate su più scuole o dello stesso comune o di comuni diversi, oppure se nessuna selezione significa avere una cattedra intera. Come preferenza, la prima delle preferenze deve essere riferita dalla conferma che ho fatto, dunque si va a scegliere il plesso che in quel caso era proprio il liceo Gulli di Reggio Calabria, dove si chiede la precedenza. Dopodiché dopo questa preferenza si possono tranquillamente mettere altre preferenze e così si può inserire la domanda e poi inviare. Faremo altri video similari, seguitici nel nostro canale YouTube e nel nostro sito www.tecniascuola.it